Tutto foppa. Il bar sport della Nobitero Subro. La nobiltà rosso-blu oggi si è fatta sentire, una parola loro. Sono meravigliosi per me, ci siamo dappertutto. Buonasera, sono Roby, voglio commentare la partita di sabato sera contro voi, è stata una bella partita, 3 a 2, ne ho già fatto bene, complimenti a tutti i ragazzi, niente, bravissima, Popovic che ha fatto 22 punti, hanno giocato tutte bene, niente, sono contento di questa prestazione, niente, l'unica cosa che devo dire, ci manca una ragazza giocatrice in attacco, che deve dare una mano alla squadra. Come dicevo nell'intervista della Martina Uiggi, che abbiamo bisogno di una ragazza che ci facciamo, spero che prima o poi arriverà, e niente, sabato appuntamento a busto, niente, buona continuazione a tutti. Ciao a tutti, mi è dispiaciuto non essere alla partita di sabato sera, ma il problema è stato che mia mamma non poteva guidare, e quindi non sono qui, non potevo venire, mi è dispiaciuto tantissimo, ci tenevo tanto esserci, per dare il mio sostegno alle foppine, cui voi sapete, voi sapete tantissimo bene, oggi ci ho avuto la notizia che Cassia sia operata, e auguriamo una pronta ripresa per la prossima stagione, e di rivederla a Bergamo, come spettatrice, per la fase decisiva della stagione, e chissà se rientrerà nei piani della società, anche la prossima stagione. Sì, mi è piaciuto tantissimo, vedeva la televisione, l'atteggiamento delle ragazze, che hanno dato una buona, ottima prova corale, dopo la svela psicologica della fine stagione, per la prima fattura di Cassia, e che ha derivato anche la bruttissima sconfitta dell'altra domenica, manovare, devo sottolineare che è una cosa che mi è piaciuta quando, come si dice, il pubblico ha beccato la silla, come quando ha riuscito a passare la rete, dopo qualche errore, fare ole, a me queste cose che voi fanno da investa, tu devi tifare, bisogna tifare i nostri ragazzi, bisogna avere rispetto. Tutto chiaro, luridissimi, vermi! Anche della Versailles, anche dell'arbitro, anche se comunque, giustamente, ho avuto anche negli anni, anch'io, mi sono molto arrabbiato contro l'arbitro, anche se adesso, per rispetto loro, mi sono calmato. Comunque adesso, domenica, anzi, sabato sera, c'è la sfida a busto, anche se con rispetto, perché comunque, due o tre amicizie a busto, con tifosi di busto, che no, io vedo, ognuno può avere un'opinione diversa, comunque, però la sconfitta, la sconfitta della andata in casa nostra, e con i tifosi loro, che esultavano, cattavano di essere salutati al capolista, bisogna, fortivamente, vendicarla. Comunque, è sempre Forza Foppa! Quando sanremo nella nobiltà, come una bomba il tifo esploderà, la Foppa è qui, la Foppa è forte, vincera! Allee Allee and your fake smiles is your only reply that I get I can't be your judge and your' kinda b**** Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vengo al palazzo, non vorrei, non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo per veder la mia squadra del cuore. E forza Foppa! Olè! E forza Foppa! Olè! E forza Foppa! Olè! Io non vorrei, lo sai, lasciarti mai perché... Ciao novità! Forza Foppa! Buonasera amici! Siamo in diretta da Tagliano di Castelli-Clepio dove circa di 10 minuti sta davvero nevicando. Qui sta nevicando, sta nevicando ma sta nevicando. Sta nevicando davvero, sta nevicando. Sta nevicando davvero. Qui sta nevicando, sta nevicando ma sta nevicando. Sta nevicando davvero, sta nevicando. Sta nevicando davvero. Siamo sempre qua, la novità, le rosso-bru, i macomo. oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio dai ragazze dai ragazze dai ragazze dai ragazze dai ragazze dai ragazze e si dai zio pera e si e volevo salutare per partecipare a tutto foppa inviate i vostri messaggi vocali con whatsapp al numero 320 1951 740 saranno raccolti e trasmessi nella prossima puntata Uiliyor 5 No Nel Isto 6 Gegenruz 6 �